Ciao a tutti ragazzi, in questa video lezione vogliamo risolvere il seguente esercizio. Scrivi l'equazione della circonferenza tangente alla retta R nel punto P e avente il centro sulla retta S. La retta R è equazione y uguale meno 2x più 2. Il punto P ha coordinate meno 1 a 4. La retta S è equazione 2x meno y più 3 uguale a 0. Ciò che vogliamo fare è scrivere l'equazione della circonferenza tangente alla retta R nel punto P che quindi appartiene alla retta R e avente il centro sulla retta S. Guardiamo la seguente figura. Disegniamo la retta R, la retta S e il punto P. Vogliamo determinare l'equazione della circonferenza tangente alla retta R nel punto P che ha centro sulla retta S. Proviamo a partire già dalla soluzione del problema. Mettiamo di aver determinato l'equazione della nostra circonferenza e che tale circonferenza sia la seguente. Si verifica facilmente che la retta perpendicolare alla retta R nel punto di tangenza P passa per il centro della circonferenza. Quindi viene da sé che per determinare le coordinate del centro della circonferenza possiamo intersecare la retta S e la retta perpendicolare ad R nel punto di tangenza P. La retta R ha coefficiente angolare meno 2, quindi possiamo scrivere che m con R è uguale a meno 2. Il coefficiente angolare della retta perpendicolare alla retta R, chiamiamola T, quindi m con T, è uguale a più un mezzo, quindi l'antireciproco di meno 2. Ma la retta T perpendicolare ad R deve passare per il punto P di coordinate meno 1 o 4, quindi scriveremo l'equazione della retta T che è la seguente. y meno 4, l'ordinata di P, uguale un mezzo, che è il coefficiente angolare che abbiamo appena determinato, per x meno meno 1, l'ascissa di P, quindi x più 1. Moltiplicando per due ambo i membri di questa equazione si ha 2y meno 8 uguale x più 1, quindi l'equazione è la seguente, x meno 2y più 8 più 1 uguale a 0, che diventa x meno 2y più 9 uguale a 0. Questa è l'equazione della retta T perpendicolare ad R e passante per P. Ricordiamo adesso che dobbiamo mettere a sistema l'equazione della retta T e l'equazione della retta S per determinare le coordinate del centro C. Quindi scriviamo il seguente sistema. Come prima equazione quella della retta T, x meno 2y più 9 uguale a 0. Come seconda equazione quella della retta S, 2x meno y più 3 uguale a 0. Dalla prima equazione si ha x uguale 2y meno 9. Sostituendo questa espressione al posto della x nella seconda equazione si ha 2 per al posto di x meno y più 3 uguale a 0. Adesso passiamo a risolvere la seconda equazione. Si ha 2 per 2y 4y meno 2 per 9 è 18 meno y più 3 uguale a 0. Da qui si ha 4y meno y 3y meno 18 più 3 meno 15 uguale a 0. Ancora 3y uguale 15 e da qui y uguale 5. Il corrispondente valore della x possiamo ottenerlo sostituendo al posto della y il valore 5 in una delle due equazioni, ad esempio nella prima. Si ha che x è uguale a 2 per 5 è 10, meno 9 è 1. Quindi quando y è uguale a 5, x è uguale ad 1. Quindi in definitiva il centro C della nostra circonferenza ha coordinate 1 l'ascissa e 5 l'ordinata. Si tratta quindi di scrivere l'equazione di una circonferenza dati il centro e un punto. Guardiamo la seguente figura. Lasciamo nel grafico soltanto il centro C e il punto P. Per scrivere l'equazione della circonferenza di centro C e passante per P abbiamo innanzitutto bisogno di determinare la misura del raggio. Quindi dobbiamo calcolare la distanza tra C e P. La misura del segmento CP è la seguente radice quadrata di 1 meno meno 1 al quadrato, quindi 2 elevato al quadrato, più 5 meno 4 elevato al quadrato, 1 elevato al quadrato. Si ha che il segmento CP misura radice quadrata di 4 più 1, 5. Quindi il raggio R della circonferenza misura radice quadrata di 5. Siamo dunque pronti per scrivere l'equazione della circonferenza di centro C di coordinate 1, 5 e raggio R che è uguale a radice quadrata di 5. Si ha x meno l'ascissa del centro, 1, tutto elevato al quadrato, più y meno l'ordinata del centro, quindi y meno 5, ancora al quadrato, uguale al quadrato del raggio, quindi radice quadrata di 5 elevato al quadrato, 5. Da qui si ha x al quadrato meno 2x più 1 più y al quadrato meno 10y più 25. Dovremmo scrivere uguale a 5. Scriviamo meno 5 uguale a 0. Si ha quindi, ordinando i termini e sommando quelli simili, x al quadrato più y al quadrato meno 2x meno 10y più 1 più 25 è uguale a più 26 meno 5 più 21 uguale a 0. Quindi questa è l'equazione della nostra circonferenza. Bene ragazzi, per quanto riguarda questa video lezione non c'è altro. Sperando che sia stata Chiara, vi ringrazio per averla seguita.